L'atelier di alta moda sposa Anna Monaco, da 27 anni, crea in maniera assolutamente ed unicamente artigianale i più bei ed esclusivi abiti da sposa. La stilista modellista Anna Monaco sceglie i tessuti e i ricami personalmente per creare i suoi capi alta moda. I modelli si rifanno alle tecniche sartoriali da sempre e rigorosamente usate per fare i più bei vestiti da sposa. Tutto il lavoro creativo segue comunque l'attualità e i trend del momento. L'atelier di alta moda sposa Anna Monaco ha sostenibili oltre 100 abiti con linee scivolate o sontuose, capi stile principessa, modelli unici ed esclusivi creati per far vivere ad ogni sposa il giorno più bello nel modo più elegante e glamour. L'atelier Anna Monaco L'atelier Anna Monaco, per ogni sposa che acquista un suo abito, regala un abito da migella o partecipazione a nozze. Inoltre riceve per appuntamento anche la domenica. L'atelier Anna Monaco veste tutte le spose senza limite d'Italia. L'atelier si trova in via Mazzini 176 Battipaglia. Per prenotare un appuntamento e prova gratuita telefona allo 0828 54 495 oppure 334 307 82 61. Contatto Facebook Atelier Anna Monaco Sposa